San Pietro lasciò un messaggio che diceva A te darò le chiavi del regno dei cieli Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli E tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli E con questo messaggio vogliamo rendervi partecipi Affinché questa festa patronale possa unirci con questa chiave In un evento religioso e di festa Perciò l'isola di Panarea chiede a tutti voi che siete all'ascolto Un gesto di generosità economico per la raccolta fondi Ogni vostro contributo libero sarà ben gradito A tutti coloro che vogliono partecipare chiediamo di avvicinarsi Preso l'hotel di Scabianca ad Angela O preso la chiesa di San Pietro da padre Giovanni Se invece vi trovate lontani potete farlo tramite bonifico bancario Che troverete sulla pagina Facebook di padre Giovanni Oltre a questo grande aiuto chiediamo a tutti di ritagliarvi uno spazio Per poter partecipare alla processione Che si terrà sia via mare e terra E alla Santa Messa Solerne che si terrà il giorno 29 giugno Accompagnata anche dalla banda La festa civile invece sarà il giorno 28 giugno Con il gruppo musicale SMS Live Band e Fuochi d'Artificio Il giorno 29 ci sarà il gruppo musicale Terra Agnura e Fuochi d'Artificio Vi ricordiamo inoltre che ci sarà il sorteggio finale della lotteria con i seguenti premi Al primo premio ci sarà la statua di San Pietro Al secondo premio un buono da 300 euro presso negozio Scarpe e Manevi Al terzo premio un buono da 150 euro presso Bruno Euronics offerto dalla Sea Panarea Quarto premio un buono da 100 euro presso la boutique Abidicchia Quinto premio un buono da 100 euro presso la boutique Bougainville Sesto premio è buono da 100 euro presso la boutique Raya Settimo premio un buono da 50 euro presso la Formica Ottavo premio un buono da 50 euro presso Scarpe e Moda Mare Nono premio un buono da 50 euro presso la boutique Sizzania Decimo premio un buono da 50 euro presso Enoteca da Tesoriero Salvatore Un dicesimo premio buono da 50 euro negozio Stramare, dodicesimo premio buono da 50 euro presso negozio Sartana, tredicesimo premio buono da 50 euro presso negozio MistriQ, quattordicesimo premio buono da 50 euro presso Anita Survenir, quindicesimo premio trattamento estetico presso la sala estetica e senza panarea, sedicesimo premio cena per due persone al ristorante Eoliano, Diciassettesimo premio cena per due persone al ristorante Dal Macellaio, diciottesimo premio cena per due persone al ristorante Adelina, diciannovesimo premio pizza per due persone e pizzeria Rodà, ventesimo premio aperitivo per due persone al bar da Carola, ventunesimo premio due chili di gelato presso Elica, ventiduesimo premio aperitivo per tre persone al bar del Porto, ventitresimo premio un buono da 50 euro di carne dal Macellaio, ventiquattresimo premio cena per due persone presso l'hotel Quartara, venticinquesimo premio un buono acquisto verso Capricci Panarea, ventiseiesimo premio focaccia da Claudia, vi ricordiamo inoltre che i biglietti li potete trovare all'hotel Isca Bianca, all'hotel Cincote e all'agenzia Ustica Lines al costo di un biglietto 3 euro, 4 biglietti 10 euro, per questo vi ringraziamo e siamo fiduciosi del vostro contributo e supporto verso l'isola di Panarea.